Pescara ha cercato senza buoni esiti di riaprirla, adesso ci riprova con Benali dentro nello spazio per Zampano che corre, raggiunge il pallone, la crossa in mezzo, occhio a Memushai, col sinistro Memushai! La riapre il Pescara! 14 minuti del secondo tempo, Roma 2, Pescara 1, ha segnato l'edial Memushai! I costi Zampano per il capitano del Pescara che carica a sinistro e conclude in porta trovando il suo primo gol in Serie A Team, il primo gol con la maglia del Pescara in Serie A Team, la conclusione di Memushai!